Posso sapere una cosa? La m***a si fotte a pieno di m***a, caseificio di Casanti Principe, che è vergognoso, che è uccessa, e la bufara è più bella di lui, per soldi, per totto, ok, ma m***a mi meraviglio della m***a, quella m***a della m***a, ma non si vergogna, né? Non si vergogna che il marito la tradisce e sta con lui per soldi? Vergognate, mi fate schifo, ma facite schifo, non finisce, p***a la m***a, ti dico una cosa, p***a la m***a, caseificio di c***a, mi meraviglio come quella tua m***a, tua schifosa di tua m***a, gli fa piacere, perché lo sa, sicuramente lo sa, per soldi, perché è una respirazione che si presenta, che mi ha guardato, che volevo guardare, tu, che mi ha guardato la tua m***a, pulisci a me, mi fa un bocchino, tu e pulisci, non guarda più, faccio nessuno, non ho paura di nessuno.